Torna il sereno in casa Delfino Pescara, roba di un giorno, tribolato, quello di ieri sostanzialmente, col preannuncio di dimissioni da parte di Peppe De Cecco. Crisi rientrata, questo almeno traspare dal comunicato diffuso e firmato dai consiglieri della società Daniele Sebastiani, Danilo Iannascole, Antonio Martino, Renato Fezzi e Gianni Pagliarone. L'integrale recita Nella giornata di ieri, così come previsto dalle normative vigenti, la società Delfino Pescara 1936 SRL ha provveduto a ottemperare al pagamento degli emolumenti, delle ritenute e dei contributi relativi al trimestre luglio-agosto-settembre del campionato 2011-2012. A seguito del CDA tenutosi in serata, presenti il presidente Giuseppe De Cecco e gli altri consiglieri, questi ultimi, preso atto di quanto dichiarato dal presidente stesso, in ordine alla propria momentanea impossibilità di far fronte al versamento della propria quota parte in conto futuro, aumento capitale sociale e in considerazione dell'impegno da lui fin qui profuso, ritirano le proprie dimissioni e rinnovano il proprio impegno a sostegno della società, confidando che in futuro, e risolta la propria momentanea difficoltà, Giuseppe De Cecco possa tornare protagonista. Dunque, crisi passata, questa la sensazione, tutto pare risolto con la volontà ulteriore di lasciarsi alle spalle l'intoppo di lunedì notte. Ieri giornata convulsa, oggi, e non è solo un fatto puramente climatico, splende il sole sulle sorti della Delfino Pescara.